Prima di iniziare ragazzi vi ricordo che in iscrizione trovate il link per acquistare le mie magliette Mi raccomando appena le indosserete fatemi una foto e taggatemi su Instagram in modo che io possa seguirvi E adesso vi lascio il video, buona visione Hola a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Oggi per la prima volta sul canale abbiamo Block Ops insieme a tutta questa bella gente Abbiamo Dani, Eren, Tano che è sotto di me, Tearless e anche Tech Hola a tutti raga Comunque vi spero tutti i minigio dentro il corso appunto del video Mi raccomando a tutti quanti un mi piace, scrivete di superare i 3722 like per questo video Iscrivetevi al canale e cliccando la campanellina Detto questo è il video che possiamo iniziare subito Ok ragazzi eccoci qui Come vedete abbiamo la selezione delle classi Adesso le proveremo un pochettino quasi tutte insieme Iniziamo subito con la casa d'assalto Avevo sbagliato questo e stavo per suicidare Che ho visto qui? Io Raga queste granate verranno depotenziate a breve Nerfatissime perché sono troppo OP raga Cioè appunto Anche la balestra Anche la balestra Ehi È tutto Spara 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 No dai non ci credo Non li ho fatti in tempo a ricaricare No basta Raga la balestra non è OP eh Usatela e vediamo se OP Non è semplice Sì bisogna saperla usare E OP se la sa usare Ma Che la sa usare? Usare di uccidere Come è successo questo Eren? La sua granata di merda che tanto gliela togliamo al prossimo giro Ma me la togliete del tutto o me la lasciate un po'? No no dopo questo la togliamo del tutto Sì Raga bombardamento Il bombardamento è un altro che un drago Lender dragon che praticamente Scaga TNT in giro per la mappa Esattamente E dopo il bombardamento single c'è anche quello triplo Che è quello ancora più OP Più fortissimo Si può dire più fortissimo? No assolutamente no Non si può dire assolutamente no E vabbè ma io respuno all'esterno Ma non è che Non ne stavo uccidendo te T'ha ucciso il drago No no infatti Sono appena responato il drago di me Ah Perché ero dietro di te Non ho sparato Non uccidermi Vieni qua vieni qua No sto seguendo Dani No Ti sei fatto killare da Dani Che Dani è tua? No non ci credo Anche tu No vabbè raga Corri 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 Comunque Usiamo adesso raga La classe leggera col P90 Allora Precisione Questa la lanciamo lì? Questa la lanciamo Giusto C'è la balestra Raga la balestra è veramente OP È un cacchio di cecchino T'ho preso E vabbè Ecco E Dani ne sa qualcosa Madonna Eren No Volevo fare di no Scoop con la balestra Ricarica Ricarica Dani da dove sei spuntato fuori? Ah e questi qui raga Sono gli approvigionamenti Dentro troviamo Tante belle cose Come armatura E tante altre armi Ma sono appena risparate Devi rispararmi Ma ero lì Stavo andando da quella parte Che devo fare? No Come ti ho mancato No vabbè Non mi ha vinto Raga la balestra Che mi sono sbagliata Stavo spuntando Dai No raga Allora la balestra Non è per me Veramente No raga C'è raga Dani è primo Dani è primo raga È primo raga L'ho ucciso Gli ho rubato il posto Peccato E' vera Ciao No no Oh Dani ma chi è stato ucciso Di nuovo Con la balestra? Eh ti è andata male Dano No 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 Dai dai E va Vabbè Mi devo tirar fuori qua Dove è Dani? Dani? Dani ma sono diritti di te Lo sai? No raga Il coltello Non si può ricaricare però Raga Sì sono così Vendanta Dani mi piace Dani mi spiace Non voglio aprire questa faida con te Aprila con me allora Ora Cosa vuoi aprire le faide? Parole dure Non le aprirò con Tano Apri le gambe Aia Parole ancora più dure Tano usa solo il cecchino Cosa? Ho fatto 8 kg di piste E vabbè No non riesco Non riesco Ma io che sono 4 No no Tre volte su 4 Tre volte su 4 No Ma che cazzo Ehi Come? Ti piace la palestra? Mamma mia No No sei appena sconato Ti lascio in pace Sì Ma cazzo Dico che ti lascio in pace Eh Me l'hai detto dopo che ho Basta mi dispiace È too late Adesso ti verrò a uccidere In via all'estero Oh Too late Bene Sulle cacche È andata quella granata Via 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 ricarichiamo Oddio Arrivano le cose Arrivano il bombardamento? È da tanto tempo Che non vedo Dani però Stiamo dentro ragazzi Sono andato in un altro server Come? Ce l'ho appena visto Vai bombardamento Dio mio Ancora Alla prossima partita Non l'hai più Io voglio vedere Che cazzo fai La prossima partita Eh Tano Anch'io ti ho appena visto Mamma mia La campanellina che sentite Sono gitmacher Sono così Sono così Tano Da dietro Mentre stavo fightando Con Tear da dietro Beh che bene Non è che stai fightando Tieni Ti vuoi affermare gli uori No 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 So per prendere Basta Usiamo il tattico Ora che è un cecchino Praticamente Sia senza mirino Che anche facendo così Con il mirino Dove siete? Cos'è sto silenzio raga? Mi sono praticamente Tanto da solo No Ma no Non è possibile Ragazzi c'era Dani Che mi sta smitragliando Da dietro Mi giro Lo balestro E muore Sì però dai Cioè No Non ha senso Alcune volte Non ha senso Usiamo questo qui ancora Questa volta senza mirino Dai Oh TLS Usi bombardamento Oh perché mi hai preso Aia Mi fai scendere da solo No No Aia Hai violato la regola Uh Raga Bisogna anticipare i colpi Quando si Oh cazzo Non passa nessuno di qua È interessante Ecco Qui si Ma No Ma dai No Aspetta l'ho preso Mi c'è Raga sto facendo un sacco di noscopi Io non so come Che il bello Non c'è il mirino nel cecchino Quindi proprio Tanta roba La tier che voleva uccidermi col pugnale Perché neppure lo spolato Volevo fare del gentleman Io sono troppo gentile con voi Devo smettere Saliamo sopra Saliamo sopra L'attimo Dove siete Panno sempre mentre sto fightando con qualcun altro Oh ma lo smetti Non siamo inizialmente a cacciare le palle È vero raga Quando fighto con Dani C'è sempre un terzo incomodo Cioè No 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 Ma Ho sblocato il bombardamento tribolo Ma sono morto Non ci credo Basta Usiamo l'altro cecchino ora Che invece è il mio preferito Non mi riesci a tirare bene le gambe Eh vabbè Ragazzi Va bene Eh vabbè Partito partito Guarda che mi sta killando una zanzara Anche tec Attenzione a bombardare No Se andasse questo cosa invece di fare clic 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 Aio Com'è che fa tec Clic 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 No dai Raga ma ti eri sentendo più bravo Ti eri schillatissimo Si sta schillando tantissimo Era come su Fortnite Che quando l'ho conosciuto faceva cagare Ora è diventato decente È simile decente Ragazzo Cioè Raga sono un slow Trasse di sostegno E poi il terzo anno si rimette in pari Hey Eh pretty much Cosa Oh No Ma ti ho missato tantissimo Raga non trovo più nessuno Ma Nench'io Ma Dani quanto merda puoi essere Ma ero lì Raga facciamo una cosa Tiriamo questa qui la fumogena Non spararmi Un'altra la tiriamo qua dietro Ma perché mi sono messo apposta Stavo uscendo dalla gara Ok Ricarichiamo Eh certo Allora tutti gli altri Prima che mi hanno ucciso così Ma non si fa Comunque Una cosa che hanno notato in pochi È che il livello di esperienza Sono le serie di kill Questa cosa qui non l'ha detta Quasi nessuno Oh Tirlands Oh capace che lo faccio io Raghi qua No Lo sappiamo Vabbè Tutti in realtà Io sto continuando Sare il check in È troppo bello No dai raga Ma sono appena spawnato Dani Sì Sono appena spawnato Ah è appena spawnato No Vabbè Amauri Eccolo là Preso Ero appena spawnato Emerald No ti voglio fare un 360 Perché voglio fare tanto lo sborone Però vabbè Aiuto Tano No No vabbè ma che sfiga però Eh io stavo caricando le armi Mi spunti anche davanti Guarda che per me non era al massimo Guarda Lo sai un attimo Dico questa qui No Ecco Questo qui me lo Tuo No Dai Dove siete tutti Stavo andando a prendere tech Chiedini Ah ah Lol Dai Non ci credo Eren devi finire di cercare qualunque la presti Ti metto quattro colpi Non 19 la prossima volta Ok Adesso tu l'hai usata Non ti trovi Non è OP Sì sì no Ci sta Ci sta Bisogna solo saperla usare Io lo so usare Mi trovo bene Scialla Non sono come voi Che spammate le granate Bastardi No Si lanciano le cose da solo È bellissimo Questa volta Quick scoop Dardo Sono stato onesto Oh ma poi c'è anche la pistola Che ricariciamo C'è Dani Dai ma carica Parca puttola Dai Ma Dani Dani con le armi di ripetizione È una precisione assurda Oh no scopatano Non lo so Why you have to be mad Ragazzi sono sei partiti Che voglio trovare la stessa arma Perché voglio dimostrare che non funziona Dai sono appena spawnato però Dani Uomo Guarda Io sono morto Sei volte sta partita appena spawnata Allora Possiamo chiedendo questo va Ragazzi sto girando male Non trovo la gente Ma nessuno è più al centro Ora mai Raga Dani Basso ormai mi ha sopraffatto Ma Non lo batterò mai più Oh finalmente Dani ma Dani è 18 Ma che cazzo No raga son migliorato dai Tente non ho mai giocato Ma io Tano non l'ho visto eh No no Dai dal dietro Le rain blades Che è stato sto botto Sendo un botto assurdo Non ci chigliamo mai Comunque raga come vedete È veramente be Non mi sparo Ah Ricarica Aldicol Aldicol No tech Eh sì Eh sì basta Tieni Tieni Ricariciamo l'aldicolo Che comunque Non è male Basta Raga Tech ha messo le inbox Basta Facciamo una cosa Vabbè tech Cioè ma come Ve l'ho detto che tech Si è messo le inbox Basta Raga triplo Come il triplo Cioè tech raga Guardate il triplo bombardamento Eh vabbè raga Bene No ho sbagliato Arma non mi spiego più niente No fammi entrare Il bombardamento Mi faccio entrare dentro casa Ok E questo qui è mio A fare kill Non so Ma cos'è quella Spottata a caso Hai visto? No Ho finito le armi Ho finito le armi Parti Ah vabbè Allora tieni tech Dai Ehi bombardamento No Volevi Era dietro Era dietro Tano Il triplo Dollevato Mamma mia Tano veramente Tecnicamente Vuol dire Ah ok Nel senso Che Io È da un'ora Che non incontravo gente Poi mi spona dietro Eme Giusto No Chi è che spara i cosi Chi è che è il trono Nel provvigionamento In bazooka E va bene Madonna Ehi Eh me l'hai trovato te No No vabbè Tano No Ancora sto coso Chi è che sta per killare Eh no 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 Ho finito i colpi Non c'è il bazooka Esploderei insieme a me No No Mi ha fatto fuori Col Tano Mi ha fatto fuori Come non c'è Come non c'è Mi ha caricato No Coltello No vabbè Manca un minuto Manca un minuto Io non trovo più nessuno No No Cazzo No Sì Tano Tiano Ti hai impiegato di questa Come hai sparato Vedi Ciao Tano Oh No Manca Cosa No Manca No Non ci credo E comunque raga Vinciamolo Icon 34 Non sono arrivato ultimo Mamma mia che partita raga Che partita Non è stata male questa Eh questa qui sì Girata anche bene per me invece Quindi ragazzi Questo video di VlogOps Finisce qui Mi raccomando Iscrivetevi qua sotto Nei commenti Cosa ne pensate E se volete altri video Di questo minigioco Tutti quanti insieme Mi raccomando Lasciate un mi piace In descrizione Trovate i link Di tutti i miei social Come Instagram E Telegram E trovate anche i link Di tutti i loro canali Perché anche loro Porteranno VlogOps Sul loro canale O l'hanno già portato Detto questo Se ancora non vi siete iscritti Al canale Invito ad iscrivervi Volendo per iscrivervi Al canale Basta che cliccare Nella volta che sta qui C'è nello schermo E se già l'avete fatto Deve cliccare Sì adesso Per vedere un altro mio video Noi raga Noi vi salutiamo Ci vediamo domani Con un nuovo video Ciao a tutti